Prima partita ufficiale per le Amaranto di Mr. Mike, che perdono di misura contro la Lazio la prima partita valida per il passaggio del turno di Coppa Italia. Le Bianco Celesti allo stadio comunale di Castiglion Fibocchi hanno battuto per 2-1 l'Arezzo Calcio Femminile, approdando agli ottavi. La Lazio si porta subito avanti al nono con la rete su punizione di Moraca. Poco più tardi un errore in fase di manovra consegna palla alle ospiti che con Poppa di Nuova trovano il gol nonostante un'ottima Nardi che para il primo tiro in uscita. Al 37esimo accorciano le aretine con la rete di testa di Zito che insacca il cost di Ploner. Nella ripresa la Lazio mantiene e difende il vantaggio guadagnandosi gli ottavi dove troveranno l'Inter. Comunque un ottimo test per l'Arezzo in vista del primo match contro il Ravenna. La prima partita dell'anno calcistico della stagione, difficile avversario, molto difficile lo sapevano dall'inizio. Hanno delle giocatrici che hanno fatto una carriera molto importante. E penso che oggi abbiamo dimostrato ai noi stessi, alle ragazze a loro stessi, che possono, se hanno questa fiducia e questo atteggiamento giusto, non devono avere paura di nessun avversario e questo mi piace molto perché con questo sentimento, con questo feeling possiamo lavorare e mettere più lavoro ogni giorno. Sono contenta per questa rete anche se sono convinta che potevamo fare molto di più. Abbiamo messo in difficoltà una squadra blasonata, comunque che è una squadra che punta a vincere il campionato. Siamo felici della prestazione, sono felice del gol, però un po' di rammarico c'è perché comunque abbiamo fatto una grande prestazione.